3F e tutti sono ZuriProofItaliana e oggi parleremo di Fortnite Scommetto che tutti voi giocate a Fortnite, o almeno lo seguite se siete in questo video Ogni settimana vengono rilasciate nuove missioni per quanto riguarda la stagione 3 E alcune di queste possono sembrare un po' più complicate delle altre Tra queste troviamo la missione di cercare tra una torre di veicoli, una scultura di roccia e un cerchio di siepi Innanzitutto recatevi alla palude, sulla parte destra della mappa, in basso a destra Mettetevi poi il segnalino dove ve lo posiziono io, in modo tale da ricordarvi dove andare Vicino a quella casetta che c'è distrutta e che è indicata sulla mappa Vi troverete davanti qualche stagno dove ci sono qualche alberi E andate nello stagno cui vedete qua nel video e vi apparirà appunto questo simbolino Voi dovrete premerci sopra per completare la missione E anche oggi ringraziamo la pura fibra italiana se ci troviamo qua Grazie per essere iscritti che siamo già quasi a 60.000 e cresciamo sempre di più Se il video vi è piaciuto lasciate un like e commentate su cosa ne pensate su questa missione E anche tutte le altre se avete cominciato a farle, insomma a completarle E' iniziata appunto oggi la settimana 4 se non sbaglio E fateci appunto sapere qualcosina qua sotto in commento E noi come sempre ci vediamo al prossimo video su Facebook Ciao